Nella sua autobiografia Luciano Chahi dedica solo tre fugaci rimandi al jazz. Il primo ci dice che nel 1920 sua data di nascita era nato anche dei Brubeck, il secondo ci racconta che negli anni 70 affidò al jazzista Giorgio Gaslini la direzione di una sua composizione ed infine ci rammenta che nel 1985 ideò un festival di jazz. Tutto qui, non abbiamo altro. Neppure le figlie Floriana e Sicilia hanno rammentato di discussioni ad esempio intorno al jazz avute col padre. E neppure i suoi allievi, gli allievi del maestro, coloro che per inclinazione si sono mostrati interessati al jazz, hanno fornito informazioni capaci di ribaltare questo quadro. Ad esempio abbiamo sentito Francesco Chiari che studiò con Chahi a Cremona musicologia. Nelle nostre lunghe conversazioni non si era mai parlato di jazz, se non in maniera molto molto tangenziale, si facevano dei nomi che lui dimostrava di conoscere, per esempio Miles Davis, perché era una cosa molto tangenziale rispetto al suo mondo nel quale era completamente immerso. Il pianista e compositore Roberto Favilla, che si impegnò nel corso di composizione che il maestro teneva al Conservatorio Verde di Milano, ci ha fornito solo un minuto dettaglio. Una volta portai al maestro una composizione di Keith Jarrett e lui la guardò e poi esclamò che era un musicista straordinario. Gaetano Liguori, anche egli allievo del Conservatorio Verdi, negli anni in cui parallelamente avviava una folgorante carriera di pianista e jazz, ci ha raccontato. Gli prestai due dischi di Cecil Taylor, Conquistadores e Strutture Unite e lui quando me li diede disse che era una cosa veramente interessante, che lui aveva notato soprattutto la parte ritmica così molto articolata e la parte armonica che rompeva assolutamente con gli schemi armonici del jazz classico. Ora, i cluster materici di Cecil Taylor, noi potremmo rinvenirli in alcuni passi di Shai, ad esempio nella variazione del sogno. Sentite questo passaggio. Ma gli accordi a tratti quartali e cluster assomigliano a Taylor solo per un parallelismo voluto dal fatto, i due musicisti pervennero a quelle soluzioni da strade diverse e le strade non si incrociarono mai. Si sarebbe tentati di gettare la spugna, evitando di affidare alla congettura una disamina su Shai e il jazz. Ma invece del rendice noi proveremo a scavare più a fondo. Siamo nel 1938 e il giovane compositore scrive una pagina pianistica intitolata Uganda. Non interessa il sottotitolo che è jazz. Una sorta di rec time con un passaggio rivelatore. Un passaggio rivelatore di frequentazioni di partiture di quel genere. Sono accordi di settima e nona, con fondamentale omessa, che discendono cromaticamente. Si tratta certamente di Debussy insinuato nel jazz grazie a Gershon, senza dubbio. Ma è anche vero che prima il rec time e dopo il jazz si impadronirono di quelle soluzioni armoniche e le resero originali, le rielaborarono. Soluzioni, ad esempio, che abbondono nella musica di Duke Ellington. Ora, essendo la composizione inedita e non avendo incisioni, Roberto Favilla suonerà per noi il passo di Shai e subito a seguito ascolteremo Swampy River di Duke Ellington, composizione del 1928. I conti tornano. Otto anni dopo, nel terzo movimento della suonata previolino e pianoforte, siamo nel 1946, col terzo movimento intitolato Danza, vi è un ritmo indiavolato di jazz. Queste sono parole del maestro tratte da un documento inedito. Un ritmo jazz che la fa da padrone. Il rimando è certamente al rec time, filtrato dal classico Neger, in particolare il rimando al suo concertino per pianoforte e orchestra del 1925, in particolare il movimento Allegro. I martellanti ostinati del francese li ritroviamo nella pagina di Shai. Non disponendo di alcuna registrazione, ci accontenteremo di una resa sonora, prestamente in bianco e nero, affidandoci ai suoni midi di un software. Nel 1955 la presenza del jazz è suggerita dal titolo stesso, Pizzicato Swing, una fortunata composizione che Shai scrisse per l'amica violinista Nelix Sanchi, la quale l'avrebbe diretta in molte occasioni, soprattutto negli anni 50. Tuttavia, benché al ceo Tony sulla notte scrivesse lo swing di un moderato modernismo, qui di swing ce n'è ben poco a partire dalla pronuncia, che non è appunto swing. Vi è un solo passo che allude ad una possibile blu note e ad una cadenza che è effettivamente jazzistica. Guardiamolo e ascoltiamolo. Non di meno la pagina è più vicina al playful pizzicato, secondo movimento della Simple Symphony di Benjamin Britten che ha il jazz. Nello stesso anno la sonata tritematica numero 9 prevede un adagio in cui, sono parole del maestro, si insinua un ritmo jazz. In realtà è una figura tanto presente nel recta in quanto nella tradizione sudamericana, ad esempio in quella cubana, e quindi nella banera. Vediamo questo ritmo che è scandito dalla tumba, ma che appunto reca solo una lontana eco del jazz. Dalla fine degli anni 50, in particolare a partire del 1960, questi timidi, questi radi rapporti col jazz, curiosamente si intensificano, e in modo assai significativo. Ad esempio nel 1960 Shai scrive tre canzoni per Laura Betti, tutte e tre sono attraversate dal blues. In La cassa da morto, la frase in cui la protagonista si risolve a tenersi vicino il proprio uomo mettendolo lungo disteso in una cassa da morto, il testo di Arbasino. Beh, quella frase, in particolare Cassa da morto, ospita una suggestiva blu note. La morticina, che il regista Filippo Crivelli, figura preziosa per la mia ricerca, che ho intervistato più volte, mi ha raccontato essere un numero molto apprezzato nei concerti, il blues è presente sia nell'accompagnamento pianistico, sia in una porzione del canto. Sentite questo riff blues, diremmo in slang jazzistico, affidato al pianoforte. Ora, non essendoci incisioni, ho chiesto alla cantante Laura Bonessa e al generoso Favilla di suonarlo per noi. Ernesto Allegri Terzo piano a destra Sempre appostato Alla finestra Dottor Schwarz Termosifilopata E poi la stessa inflessione la troviamo nel canto, e quando la protagonista, una illibata borghese, non essendo riuscita ad appagare i propri desideri carnali a causa di uomini troppo deferenti, li appella, sono parole di buzzati, con Imbecilli Coglioni E lo fa affidandosi allo stesso riff blues che prima abbiamo ascoltato al pianoforte. Sentiamolo Imbecilli Coglioni Ma è la canzone inedita Striptease, che non entrò negli spettacoli di Laura Vetti, che mostra maggiormente il proprio debito nei confronti del jazz e del blues in Striptease, su testo dell'intellettuale e poeta Giorgio Cesarano. Il riferimento al blues è sia nel testo, sia nella melodia, sia nella forma musicale. Sentite questi due frammenti, uno blues e l'altro addirittura boogie boogie. Che cos'ha questo blues che mi riporta Odore d'erba e brezza di cuillina Mentre all'introduzione pare essere un inchino la Prelude to a Kiss, la celebre rima song di Duke Ellington, dalla quale condivide anche lo speziato accordo di tredicesima su cui si deposita il motivo. La miccia è accesa. Nel 1962 l'improvvisazione numero 3 porta a spasso un tema trovierico per otto secoli di storia della musica attraverso gli stili, a cavallo degli stili, di ben 26 diversi compositori. Lavoro di vertiginoso artigianato in cui la melodia passa dalla solennità di Monteverdi al pathos di Beethoven per giungere a un verb puntellistico e infine depositarsi in uno stile alla Mulligan. Sì, il riferimento è alla grande penna del cool jazz e al grande sax baritono Jerry Mulligan. Ascoltiamo solo l'incipe del tema medievale e poi arriviamo a questo finale jazzistico in cui tutto si spegne entro un'ità di fa maggiore ma con un accordo di fa tredicesima e undicesima eccedente, omaggiando così le armonie pungenti del jazz e con quelle mi bemolle e quelle si naturale anche le seducenti blue note del blues. L'anno seguente, 1963, Shai si nutre del jazz per scrivere una pagina di sublime bellezza. È una improvvisazione, l'improvvisazione numero 8 precisamente, per il violoncello solo e la dedica alla musicista statunitense Donna Wagendanz che noi abbiamo intervistato e la quale ci ha detto «Tra rapidi pizzicati e il battere di dita sul coperchio del voloncello, tra diagrammi jazzistici e miagolii e armonici fischiettanti, tra tremoli e glissandi sul ponticello, il mio carissimo Luciano ha creato un capolavoro». I quei diagrammi jazzistici li ravvisiamo ad esempio in rapidi pizzicati a imitazioni del contrabbasso del walking bass jazzistico. Ascoltiamo questo breve passo. O nell'ispirato finale, fondato sul blues e sulla ambiguità del blues tra tonalità maggiore e tonalità minore, tra cui il sol maggiore e il sol minore questa pagina delicatissima si spegne. Nel 1971 il maestro si prepara a scrivere un'opera lirica ispirata alla commedia in un atto di Luigi Pirandello, Sogno ma forse no, e, sono parole di Chai, prima di iniziare l'opera, come certi pittori fanno uno studio prima di fare il quadro, composi per vedere come riuscivo a muovermi tra le fate morgane di quel clima onirico, il pezzo per pianoforte «Variazioni nel sogno». E dalla bruma di questo clima onirico emerge un disturbante foxtrot di 17 misure, 17 è un numero caro al maestro. La sinistra restituisce la ritmica cosiddetta «un pa» e mirabilmente la composizione, pur in un contesto a tonale, fa affiorare dei chiari accordi tonali alternate ad ambigue verticalizzazioni. Ascoltiamolo. Quando l'anno successivo scriverà appunto l'opera, questo fox diventerà l'accompagnamento per un duetto di due protagonisti degli amanti e sarà indicato nel manoscritto come jazz cantano. La strumentazione è di interesse, il fox è rivestito di un timbro molto suggestivo, batteria, tastiera elettrica e banjo e su questa base si leva la voce prima del protagonista e poi della sua amante. Non essendoci in registrazione ancora una volta ci affideremo ai suoni poveri di un MIDI file, ma avremo almeno l'idea di questo suggestivo impasto timbrico e delle due voci di cui non potremo ovviamente sentire le parole, ma solo le linee melodiche. Nel 1978 Schey pubblica per Curci una poderosa opera didattica alla Magneurde, ben 100 temi per lo studio della composizione attraverso 100 stili di 100 diversi compositori, dal rinascimento di Merulo sino all'allora vivente Penderecki. Il tema numero 96 è nello stile di Dave Brubeck, un suggestivo studio delle dominanti secondarie che rimanda alla balla del jazzista Strange Mead of Lark, tratta dal suo disco più famoso Time Out del 1959. Mettiamo a confronto il tema alla Dave Brubeck, suonato per noi da Mirko Puglisi, che è allievo di composizione presso quel conservatorio verde, sul quale, come si diceva, insegnò per molti anni il maestro, con la balla del jazzista americano. Ma entrando nei dettagli della scrittura, notiamo un tocco di originalità armonica che per certi versi manca nella composizione di Brubeck. Nello statunitense la catena di quinte discendenti non presenta elementi spiazzanti. In Shai al contrario vi sono. E come? Andiamo al pianoforte. I primi due accordi del tema, Si bemolle e Mi bemolle, in quanto secondo e quinto della tronità d'impianto alla bemolle maggiore, dovrebbero suonare grosso modo come Si bemolle minore, Mi bemolle settima, primo grado, la bemolle maggiore. Shai invece decide che il suo primo accordo di Si bemolle suoni così, Si bemolle maggiore settima, come un primo grado, e di conseguenza il Mi bemolle settima suona come un quarto grado settima, alla Gershwin, insomma un gustoso tranello armonico. Nel 1985, negli anni della travagliata direzione artistica del Teatro dell'Opera di Genova, Shai si occupa della ideazione di un festival. Il pianista Marco Fumo, che vi suonò, mi ha raccontato che fu uno dei suoi primi concerti dedicati al rapporto tra il jazz e la musica classica, repertorio a cui il pianista si dedica. Ancora oggi, dopo oltre 35 anni. Nel 1996, il giovane trombettista Lorenzo Cimino, in bilico tra jazz e musica contemporanea, chiede al maestro 76enne di scrivergli una composizione per sulla tromba, dalla lunghezza di un minuto. Dalla sua magione dei pievi di ledro, Shai scrive quel minuto e lo spedisce assieme ad una toccante cartolina che recita «Spero che le vada molto umilmente Luciano Shai». Si tratta del silenzio militare, ma è un silenzio militare avvolto dal blues e che al suo cuore all'interno prevede, diremmo, un coro soggettistico, una improvvisazione. Una improvvisazione scandita su una figura di 3, 4, 5, 16esimi. La stessa figurazione ritmica che nel 1954 Shai aveva utilizzato per dare corpo allo sferragliare del treno della ferrovia sopraelevata di Buzzati. E su quel ritmo, ci ha raccontato Cecilia Shai, il papà teneva forse scandito con grande precisione ritmica, con groove jazzistico. Il silenzio è inedito, ma abbiamo chiesto al dedicatario, a Lorenzo Cimino, di dare voce per noi a quel silenzio. Ora, il nostro sguardo a volo di uccello pare a restituirci questo. Nei primi decenni della sua carriera Shai è piuttosto schivo nei confronti del jazz, lo guarda con sospetto, lo fa entrare nelle proprie partiture con circospezione. Poi, dalla fine degli anni 50, vi è una svolta inaspettata. Ora, cosa? Quale evento? O chi? A portare a questo cambio di rotta. Per scoprirlo, dobbiamo farci un giro Milano, entrare nei corridoi della RAI di Milano e dobbiamo andarci al calare degli anni 50. Ed in quei corridoi della RAI si muoveva, con disinfoltura, un assistente musicale che si chiamava Wolfgang Kunze. Aveva messo fin dai principi degli anni 40 a mano, con sapienza, ad alcune partiture tra la musica leggera e quella sincopata. Curò, ad esempio, l'arrangiamento della canzone di Carlo Alberto Rossi di Giorno in Giorno, che tra l'altro il tropettista jazz Harry James aveva il repertorio. E il testo di quella canzone è del fondatore della rivista Musica e Jazz, Giancarlo Testoni. Poi, negli anni 50, Kunze passa alla RAI. Ora, mancando ogni reperto fotografico di questo oscuro pianista e arrangiatore, abbiamo interpellato gli otogenari muricisti e tecnici del suono della RAI perché lo tratteggiassero per noi. Immaginiamoci quindi un uometto di media bassa statura, un po' di pancetta, occhialini, un uomo distinto, insomma. Il tecnico del suono, Lucio Cavallarin, lo ricorda così fedele all'azienda, che era solito, Kunze, rigare inesorabilmente i dischi di prova che passavano i cantanti, i suoi dischi di prova i cantanti avrebbero imparato il motivo, affinché questi evitassero di distribuirli commercialmente. L'assistente musicale per Giuseppe Corà mi ha confidato che tutti lo consideravano un musicista autorevole. E autorevole lo era davvero, al punto che il collega Luciano Chahi seguì un suo consiglio con grande convinzione. Dopo l'incontro con Kunze, è Chahi qui a prendere la parola, iniziai un profondo studio di Jerry Mulligan, dell'armonia jazzistica in generale e del cool jazz in particolare. E in quel 1958, anno dell'incontro, Chahi scrive tre pezzi jazz per settetto jazz e li dedica a Kunze. Tra l'altro, negli scritti autobiografici del maestro manca qualsiasi punto esclamativo, ma qui evidentemente tiene a sottolineare la qualità del lavoro. Iniziai un profondo studio di Mulligan? Da prima, Chahi decide di inserire i tre pezzi jazz in un'opera che aveva in testa ispirata a un film, Un cappello pieno di pioggia di Zinnemann del 1957, uno struggente in melodramma con una maiuscola, con una sonora angosciante di Bernard Herrmann. Ma nel film, come musica diegetica, nelle scene delle music club in cui lavora il personaggio di Polo Pop, magistralmente interpretato da Anthony Franciosa, vi è anche del jazz. Il maestro contatta quindi lo sceneggiatore del film Michael Gazzo, che era anche l'autore dell'opera teatrale, attende, ma la risposta attende troppo ad arrivare. E allora il destino dispone, che sarebbe stato il suo amico Dino Buzzati, a fornirgli l'occasione per portare quei tre pezzi jazz sul palcoscenico. Buzzati è contattato dalla coreografa della Scala, Luciana Novaro, la quale gli chiede un soggetto originale per un balletto per la stagione scaligera 1959-60. Lui risponde, fornendo soggetto, costumi e scene. Ora, l'opera di Buzzati, l'opera di scrittore, ma mi verrebbe da dire anche di pittore, anche di fumettista, è densamente popolata da fantasmi. E allora anche qui decide di chiamarli e farli danzare in un albergo di lusso. Perché il balletto avrebbe infatti avuto come titolo Fantasmi al Grand Hotel. Il plot è semplice. Una giovane sprovveduta, tratta dalla promessa di lusso di una gangster che alloggia in un hotel, è condannata per un omicidio che non ha commesso ed in extremis è liberata dal suo innamorato, un suonatore di organetto, una sorta di orfeo, anzi per dirla col poema Fumette di Buzzati, una sorta di orfi che la libera, la conduce verso quell'albergo, dentro quell'albergo ormai faticente, abitato da fantasmi e la porta verso un'alba di speranza. Ora, il debutto, la prima, il battesimo del balletto è fissato per la scala per l'11 febbraio del 1960. Prima di quel giorno successe di tutto. La coreografa Luciana Novaro si trovò in stato interessante, fu costretta a lasciare il lavoro, fu sostituita dal grande coreografo Massini, il quale non di meno non si trovò per nulla in sintonia con la musica di Shai e, come se non bastasse, il sovrintendente della scala Ghiringhelli chiese al compositore di depennare alcuni numeri relativi alla terza scena, quella del banchetto, il banchetto allestito dal capo gangster per irrettire la giovinetta. È il 4 febbraio, entro 48 ore Shai deve riscrivere la musica e al 6 febbraio è fissata una prova che avrebbe decretato se lo spettacolo sarebbe finito in cartellone o posticipato. Come noi sappiamo, alla fine lo spettacolo rimase in cartellone per quell'11 febbraio del 1960. Ma quali numeri fecero andare su tutte le furie la direzione della scala? Pare che Ghiringhelli abbia tuonato un po' di rispetto per la scala. Ebbene, gli sfortunati tre numeri jazz del 1958. Quella musica, dopo l'opera lirica mancata, si trovò nuovamente abbandonata e senza voce. E pensare che Shai aveva deciso per loro un ruolo da protagonisti. La musica sarebbe stata eseguita direttamente sul palcoscenico come un combo jazz in un nightclub. Il capo gangster, il ballerino Amedeo Modio, che ho raggiunto telefonicamente per questa ricerca, non mi ha nascosto il suo disappunto circa il depennamento di quella musica jazz. Amedeo amava e ama il jazz e mi ha confidato che negli anni 50-60 era solito andare a sentire questa musica nel jazz club di Milano e in qualche occasione in quei jazz club addirittura vi ballò da professionista, ad esempio sotto il jazz di Pezzotta Basso Valdambrini. Ma relativamente a Fantasma del Grand Hotel, Ammodio si dispiacque fortemente per quei tre numeri messi all'indice perché ciò comportò che anche i numeri di ballo legati furono estromessi e quei numeri sincopati erano, secondo il ricordo del ballerino, molto efficaci, molto ben coreografati. Un appunto, dati lo scritto di Shaheen, un datato, ma certamente di qualche lustro successivo rispetto al balletto scaligero, ci informa della costante preoccupazione del compositore di trovare luogo per quella musica, di trovare collocazione per quella musica. A correggere, anche se di poco, l'inesorabile traiettoria della malasorte, diciamo così, ci ha provato chi vi sta parlando. Nel 2007 mi adoperai infatti perché quei tre numeri jazz, duplicati da ricordi ma mai suonati, mai eseguiti, trovassero posto in un concerto dedicato ai rapporti tra la musica classica italiana e il jazz. E così, il 20 febbraio del 2007, a Roma, la Parco della Musica Jazz Orchestra, diretta da Maurizio Gianmarco, suonò quei tre numeri jazz. E il pubblico scoprì tre capolavori. Adesso tocca a noi gustarceli. Ascoltiamo dai nastri di Roma il jazz numero uno. Questo era il titolo. E il sottotitolo, tra l'altro, che avrebbe avuto nel balletto sarebbe stato Il Pasto. La formazione è per il setetto jazz. Abbiamo sax tenore, sax baritono, clarenetto, tromba, trombone, contrabbasso e batteria. Sentirete una introduzione dove risuona un accordo caro al jazz moderno, l'accordo minore con settima maggiore, che conduce ad un tema obliquo. Al di sotto vi è un'armonia cromatica che guarda tanto il jazz quanto la bitonalità stravinschiana. Gustiamocene uno scampolo. Grazie a tutti. Che sia chiaro, nessun brano di Jerry Mulligan suona così. Neppure quelli che il jazzista suonò a Milano il 26 febbraio del 1956, live ripreso dalla Rai, live che probabilmente Shelly ascoltò. E neppure il decorso formale è tipico del jazz. Insomma, qui, come negli altri due numeri, la lezione di Jerry Mulligan, io credo anche quella di Stankenton, sono così depositate talmente in profondità che hanno permesso l'affiorare dell'estetica di Shelly. Il jazz numero due, o balletto delle bottiglie, è uno slow il cui percorso di accordi è più legato all'armonia funzionale. Qua e là si levano i chidi Gürfin. Questo brano si chiude con un accordo di tredicesima con undicesima eccedente. Adesso abbiamo capito da dove e da quando questa verticalizzazione entra nel vocabolario di Shelly. Lo stesso accordo di chiusura lo troviamo nella Cassa da Morto del 1960 e nella Improvvisazione numero 3 del 1962. è tutto l'uoi. Il terzo numero, Jason numero 3, Danza della Magliarda, attacca come una improvvisazione di sax baritono il rimando al pianoless quartet di Mulligan, l'armonia è quindi implicita, suggerita solo dal contrabbasso, dal solista e talvolta da una terza voce del background. Come dire, la tonalità è quella allargata, un termine che Chai di gran lunga preferiva ad atonalità. È una pagina di grande forza drammatica, in cui in filigrana si nota l'arte del contrapunto per la quale Chai e Mulligan erano e sono meritatamente celebri. Grazie. Grazie. Chai l'ha prese male quando, in quel febbraio del 1960, fu costretto a cassare i tre pezzi jazz dal balletto. Il maestro ha sottolineato il suo disappunto nella monografia buzzata in musica e lo ha ribadito due anni dopo nell'autobiografia. Se l'ha prese così male per quel jazz depennato che arrivò a raccontarci una bugia o, se preferite un sinonimo, una mezza verità. Il ballerino Flavio Bennati aveva lasciato la scala nel 1959, ma nel febbraio del 1960 si trovava a Milano e andò da spettatore a gustarsi il balletto Fantasma e il Grandotelli. Andò a due recite addirittura. Questo mi ha raccontato. Poi ha aggiunto che una sua collega gli aveva confidato che Letta Morini, che era la sostituta di Carla Fracci, se la cavava molto bene anche in prova a ballare su quelle musiche jazzistiche. Ma quali musiche jazzistiche? Perché Chai ce l'ha detto e ce l'ha ridetto che i numeri jazz furono inesorabilmente cassati. Forse il maestro, dopo tanti anni, il ballerino Flavio Bennati ricordava male. E altrettanto sfocati potrebbero essere i ricordi di Riccardo Shea, il quale, in una intervista a Repubblica del 2011, parlando delle composizioni del padre, ebbe a dire «Alcune avevano inquietudini jazzistiche, come il fantastico balletto a cui da bambino assistetti alla Scala, Fantasmi al Grandotelli». Riccardo, allora, aveva solo sette anni. Non di meno, sulla memoria di Eugenio Montale proprio non possiamo nutrire dubbi. Perché il grande poeta, allora era anche critico musicale del Corriere della Sera, e il giorno dopo il debutto di Fantasmi al Grandotelli scrisse fresca una recensione. Una recensione in cui lo dava a quel balletto molto eterogeneo in cui, cito le parole del giornalista e poeta, «Non vi manca neppure un jazz». E addirittura alla recensione della notte quel jazz lo mette nei titoloni a lettere cubitali. «A ritmo di jazz i fantasmi buzzatiane». Forse vi era altra musica sincopata, altra musica jazz, a parte i tre numeri di col jazz che furono depennati? «L'analisi della partitura ha dato risposta negativa». Anche se, effettivamente, quel jazz numero due, Shaggy non l'aveva previsto solo per la scena terza, ma anche, in barba a Ghiringhelli, nella scena seconda. Certo, lì era orchestrato, più classicamente diciamo così, per orchestra d'archi sordinati, per un passo due tra il gangster e la magliarda. Di conseguenza, quei ritmi jazz di cui parlano le recensioni, ritmi jazz, ancora non trovano ragione. Ora, perduta la partitura definitiva, quella con annotazione, tagli, quella che utilizzò per le recite il direttore Luciano Rosada, è data l'inutilità ai fini della nostra ricerca dell'edizione a stampa Ricordi, perché l'edizione a stampa fu pubblicata qualche mese prima di quell'11 febbraio, prima del debutto, e di conseguenza prevedi tre numeri jazz secondo l'idea originaria. Allora mi risorsi a interrogare non tanto l'ufficio noleggio Ricordi, ma i loro archivisti esponendo la problematica. E, dopo qualche giorno, venne alla luce un faldone. Un faldone intitolato Fantasmi Set Scala. Sono parti staccate. E da quelle parti siamo riusciti a devincere che, effettivamente, il jazz numero uno e il jazz numero tre furono depennati. Lo vediamo da questa immagine, da questa parte del sax tenore, in cui osserviamo che il numero uno e il numero tre furono cancellati e, tra l'altro, la stessa mano ha tirato una riga sulle parti degli altri sei strumenti. Mentre il jazz numero due fu suonato esattamente come l'aveva concepito Sheailly, con quello organico, semplicemente non sul palcoscenico ma nell'orchestra di Fosse. Infatti vedete che il jazz numero due è del tutto intonso. E, leggendo la parte di batteria, comprendiamo anche l'accento dei recensori sui ritmi jazz. Perché? Perché il jazz numero tre avrebbe dovuto concludersi con una solo di batteria di dieci misure. Bene, all'ultimo momento Sheailly inserì quelle dieci misure e le mise come coda del jazz numero due. Eccole qui, lo vediamo in questa parte. Sono quindi anche spiegati i ritmi jazz a cui fanno riferimento i recensori. In conclusione, il jazz numero due fu interamente salvato. E del jazz numero tre il pubblico della Scala ascoltò perlomeno il finale. E negli anni a venire il maestro avrebbe trovato il modo di consegnare anche il jazz numero uno ai posteri. Anzi, fece di meglio. Lo consegnò direttamente ai suoi allievi di composizione. Perché nel già citato metodo didattico La Manure Deux, oltre al tema alla De Brubeck, abbiamo, esercizio numero 98, un tema alla Jerry Mulligan. Quel tema è il jazz numero uno. Insomma, pare che il maestro avesse davvero a cuore queste tre nuove jazz. Al punto che per stigmatizzare colui o quella cultura che gliel'avevano contestati, dipinse un quadro alterato dalla realtà. Un modo di porsi, verrebbe da dire, infantile. Ed effettivamente in questo atteggiamento vi è il senso della sacralità, per i dettagli, l'astuzia, il gioco, la sensibilità sottile, tutte cose che i bambini hanno e che poi gli adulti perdono, ad eccezione dei grandi artisti. Chiara Per un'istia Chiara Per un'istia Supposta Grazie a tutti. Grazie a tutti.